che cosa sta succedendo qui perché ci sono così tanti cantieri c'è qualcosa di nuovo e quel trattore ma cos'è tutto questo casino wow che bello quello che c'è là sopra ma è di qualche centro sportivo ma strano sulla porta non c'è scritto niente soprattutto così high tech ok la c'è una camera di sorveglianza lì ci va un codice per entrare ma che cosa cavolo è wow è questo che forzata ma ma posso toccarlo wow una pistola laser o qualcosa del genere wow qualcosa del genere l'ho visto solo dagli acchiappa fantasma qualcosa di davvero diverso questo ehi ehi ragazzino stai trovato quello che stavi cercando scusi scusi non la volevo toccare non la volevo rubare giuro giuro ma aspetta io ti conosco non sei mica jonas quello quello di acchiappa fantasmi sì sì sono proprio io ma ma come fa a conoscermi ma insomma acchiappa fantasmi ok ma sono solamente uno che sono stagista sì 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 ma conosco molto bene acchiappa fantasmi e tamia lavorato qui da noi sì sì quindi ci conosciamo sai cosa ti dico potrei aiutarti potrei aver bisogno del tuo aiuto ho visto che il mio collega malato potresti aiutarmi sistemare un po tutte le cose dai noi ti faccio vedere la nostra nuova centrale ma veramente fantastica la vostra centrale è enorme è un pochino vuota perché non sono ancora tutti i mobili ma è davvero fantastica ma un'altra domanda ma chi siete voi che cosa fate siete tipo acchiappa fantasmi o io nas noi siamo qualcosa tipo gli acchiappa fantasmi noi siamo gli agenti top dei tre mobile ma contro tutti i cattivi guarda qui per esempio se dai un'occhiata lì quel nostro monitor vedi quelli ci viene mostrato tutto se in play mobile city funziona alla grande se tutti stanno bene vedi se c'è qualcosa lampeggia e noi andiamo lì e ci andiamo in macchina o ci vogliamo qualsiasi posto dobbiamo andare davvero gli agenti top non l'avevo mai sentito conosco solamente gli acchiappa fantasmi e tamia non mi aveva raccontato niente che bello però diciamo che all'inizio era abbastanza strano ma adesso siamo siamo diventati come voi e agiamo appunto nel mondo intero insomma per salvare tutte le persone di mobile ma comunque io sono l'agente p se posso aiutarti chiamami eh ma agente p ma ma guarda la è il vostro jet ski eh sì è proprio il nostro se vuoi puoi aiutarmi che dobbiamo sistemarlo e puoi anche farci una prova ok wow agente p questo era l'ultimo pezzo che doveva mettere insieme penso che ora sia pronto posso sedermi certo certo che puoi dai prendi anche il caschetto dai così sei veramente un vero e proprio guidatore si è un pochino grande ma ma comunque wow che bello mi immagino se io fossi in mezzo al mare wow sono un top agent un agente top mi fa molto piacere che ti piace ma ma guarda dall'altra parte che almeno sistemiamo anche qui potrebbe servire quindi tu hai appena un risparmiatore di energia devi metterlo lì sotto buah quanto pesa bene ora però si mette lì oh ma come lampeggia dammi ma 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 come fate cosa volete farci insieme oh sì insomma vedrei potremmo spararci con quelle cose con i fuochi d'artificio di arti pistole io una sgrazia per averci aiutato ma ma veramente veramente con piacere questa centrale è veramente fantastica quindi se in generale avete bisogno di aiuto fatemi sapere che io io sono sicuramente ecco disponibile si vi aiuto volentieri o io l'ho scossa una grande idea visto che sei dagli app fantasmi vuol dire che potresti essere un vero aiuto quindi se ogni tanto è vero di venire da noi allora potresti venire a fare un giro oh cos'è questo rumore oh penso che ci sia qualche cosa oh no di nuovo guardo la ionos vedi la quello quello sì la ci devono essere dei problemi la quel ragazzaccio combina sempre qualcosa ora devo partire con il mio team ok gente tante tante grazie per per tutto quello che avete fatto per me comunque io sono sempre disponibile tornerò presto a trovarmi comunque in bocca al lupo ciao ragazzi anche per oggi è tutto mettete mi piace al nostro canale e al nostro video mi raccomando non perdete nessun episodio dei nostri fantastici amici alla prossima ciao